Dopo aver fatto dei colloqui, io ho fatto un colloquio all'ingegneria, poi c'erano un po' dei ritardi, ho fatto un altro colloquio in manutenzione, poi mi hanno assunto all'ingegneria e c'era sempre un esponente dell'ufficio del personale e un esponente dell'ingegneria. Certo che uno quando si trova in quei momenti lì l'emozione è tanta, come l'emozione è stato al primo giorno del lavoro, io non ho mai variegato il mio lavoro, io sono sempre stato alla divisione dell'ingegneria, dal primo all'ultimo giorno, anche se gli americani vogliono che si diversifichi molto il lavoro, per loro ad esempio spostarsi nell'ambito del lavoro, degli stabilimenti che avevano in Italia, per loro in America andare a lavorare 200-300 km era ridicolo, noi quando si prospettava una persona di andare a Milano oppure di andare a Caserta, queste cose non le capivano. e quindi diciamo che io non so se è stata una fortuna per me rimanere sempre nel gruppo elettrico del central engineering, perché il central engineering era il gruppo dell'ingegneria diciamo dell'ingegneria normale, non dell'ingegneria legata al prodotto, l'ingegneria legata al prodotto era un'altra branchia, il central engineering era fatto dall'ingegneria, dalla parte elettrica, dalla parte meccanica e dalla parte di ILE e lavorava su tutti i progetti e giunti a questi punti per me subito sono stato affiancato da dei miei colleghi che avevano un'anzianità di lavoro dove mi hanno insegnato molto bene a fare il mio lavoro e poi in mano ho cominciato da progetti semplici per diventare sempre più complicati, diciamo che il mio primo capo è stato per me un capo e un amico è stato l'ingegneria Gervasio per poco tempo perché poi è andato a fare subito il responsabile della manutenzione e praticamente io da lui ho imparato molto e poi anche in futuro nell'ambito del 3M Club che magari poi parleremo dopo e poi ho avuto la fortuna dopo dieci anni di poter diversificare il mio lavoro nell'ambito della 3M Italia occupandomi sempre come parte elettrica di progetti in altri stabilimenti e il non plus ultra forse è stato il raddoppio della sede di Milano, Segrate, San Felice, c'è stato il raddoppio e lì praticamente ci lavorava solo il central perché era solo parte meccanica, condizionamenti, cioè parte elettrica e parte di ILE, è stata una bellissima esperienza verso la fine degli anni 80, se non si ricordo bene, poi anche a Caserta e poi anche in altri stabilimenti perché non dimentichiamo che la 3M oltre ad avere captato il nostro stabilimento come alta tecnologia nel produrre prodotti fotografici e radiografici dove c'era da prendere degli stabilimenti dove c'era della tecnologia particolare, io mi ricordo ad esempio a Milano adesso non mi ricordo più bene il posto, no a Milano, Milano lato Varese, c'era uno stabilimento che faceva segnaletica verticale sulle strade, cioè faceva una mescola per fare le strisce sulle strade gialle, ebbene, se uno entrava lì dentro c'era da aver paura, c'erano lampade legate, però quella tecnologia lì gli interessava, l'hanno comprata e ci mandavano poi noi a rivedere tutti gli impianti, a rifare gli impianti parte elettrica, parte meccanica, parte ILE. Ecco questa è stata un po' la mia storia, io sono stato molto contento di averla fatta, alla fine sono stato anche premiato perché sono stato nominato responsabile del gruppo, ma non eravamo più 10 o 12 persone, ma due o tre perché le cose poi cominciavano a non andare bene e quindi si è molto rimpicciolito diciamo il gruppo. Era il 1996 e diciamo che se mi ricordo bene c'è stata, penso anche una grossa manifestazione all'interno della fabbrica, ma anche un grosso annuncio all'hotel city di Cairo Montenotte per annunciare questo spin off, c'è chi lo vedeva come la fine della 3M e c'è chi lo vedeva come il futuro della 3M, io non vorrei votare sì o no in questo momento, vorrei solo dire che forse avevano ragione quelli che dicevano che era la fine della 3M perché sto satellite animation poi non si è dimostrato all'altezza della 3M, anche se era un satellite. Era una fabbrica che si potevano formare alla grande, anche noi periti praticamente abbiamo imparato moltissimo, moltissimo dalla scuola americana. Diciamo che io ho ricordi, dato che mio padre lavorava in Ferragna ha lavorato penso dal 32 al 72, qualche ricordo perché essendo di Ferragna, nato a Ferragna ho vissuto un po' la vita di questo stabilimento perché mi ricordo che dalla Ferragna, dallo stabilimento che andavano a prendere il treno alle 5, noi eravamo lì che giocavamo nel campo sportivo, magari io ero ancora un ragazzino, passava una persona e poi per un quarto d'ora cominciava a passare gente che andava a prendere il treno per Savona, per Rocchetta, per Dego, per Spigno, per Acqui. Quindi tutte queste persone che hanno dato tanto alla fabbrica non erano forse laureati, ma io proprio sono nato nel borgo vecchio di Ferragna dove c'era la chiesa, perché tenete presente che io penso che il 90%, l'85%, adesso mi posso sbagliare, delle case di Ferragna erano tutte della Ferragna, erano tutte della Ferragna, ce n'erano poche private case, ma comunque il momento più bello per noi giovani era Natale, perché la Ferragna allora dava il pacco natalizio, mio padre arrivava a casa con una valigia di cartone, col manico di legno e dentro c'erano le confezioni di formaggio, grana, pasta, olio e c'era anche qualche giochino per i bambini. Ecco questo era il momento più bello. Diciamo poi che a noi ci ha cominciato a offrire il tennis, le bocce, il calcio, perché il campo sportivo, il bocciodromo e il dopolavoro che adesso sta venendo giù, c'era il cinema, c'era il cinema, il cinema, noi tutte le domeniche andavamo al cinema, guai se non c'era il cinema a Ferragna e c'erano, hanno fatto dei veglioni indimenticabili, io mi ricordo che era venuto Fred Buscaglione, tanto per dire, a Ferragna e quindi per noi giovani Ferragna è stata tanto, ci ha dato tanto allo stabilimento, anche prima della 3M direi. E non dimentichiamo poi che legando un po' Ferragna al mio lavoro, tutte le case oltre Bormida e persino la villa degli ingegneri schiatti che era la loro direttore della Ferragna, che era dopo la stazione, era alimentata con energia Ferragna a 570 volt. Poi in fondo c'era un trasformatore, il trasformatore faceva 570-220 per la forza motrice, 570-125 per la luce, poi nel 1980, anche lì per me è stata una bella esperienza, abbiamo preso accordi con l'Enel, abbiamo acquistato una gabina a Enel, che poi l'abbiamo data per 2 lire a loro e abbiamo portato il 380, diciamo, 380 che poi è un 220 perché il 380 perché poi si fa frase nel, abbiamo portato il 380 volt a tutte queste abitazioni della Ferragna che poi sono state vendute, perché ricordiamoci bene che in manutenzione, io mi ricordo appena assunto, ma ancora prima di essere assunto, quando lei diceva che era un ragazzino, c'era un geometra che era solo addetto alla manutenzione delle case della Ferragna, era il geometra Torelli mi sembra che si chiamasse, gli piaceva anche venire a casa, gli dava un bicchiere di vino, lo bevevo volentieri, tanto per dire un caffè, però sono cose che ti rimangono, non scappano quelle cose lì, insomma. Porto un po' il mio nipotino a giocare un po' il tennis lì che c'è un ragazzo che sta ancora tenendo in piedi un po' il tennis, ma finché arrivo alla stazione, perché poi se vogliamo, noi, la 3M era proprietaria quasi alla stazione della Sali, che era un reparto di confezioni, un reparto di confezioni si chiamava Sali e adesso l'ha comprato la ditta Comparato, l'ha comprato la ditta Comparato che si è spostata da Carcare e ha fatto un bello stabilimento e dà una bella impressione, quindi se arriviamo fino lì è ancora la Ferragna di una volta, però se passa il Cavalcavia che arriva al campo sportivo e poi al Kral, al dopolavoro e poi arriva la Ferragna non la conosce più, cioè è meglio non passarci, ecco, tanta gente che ci vediamo ancora in piazza Cairo, in giro, non ci passo per non vedere la Ferragna in quelle condizioni, che poi se vogliamo ancora dare un aneddoto, oltre alla stazione, la Ferragna era padrona anche della segheria, che mio nonno andava a lavorare un po' in segheria, era in pensione della ferrovia e praticamente lì lavoravano in legno, preparavano i pali, gli sbucciavano i pali, poi facevano i fascetti per accendere il fuoco, c'era anche quella segheria lì, era anche della Ferragna, più tutto il, come si chiama, il paese di Prastottano, il paese, il borgo di Prastottano, che girando dalla ferrovia su, andando a destra, si va a Prastottano, che anche lì erano case della Ferragna e lì avevano cominciato, io non la so bene la storia, dovete chiedere alle persone, forse sono più anziani di me, avevano cominciato una centrale che poi non avevano mai finita, non avevano finita, perché volevano potenziare la produzione delle polveri esplosive, è il tempo della guerra, è una centrale che non è stata mai finita, avevano cominciato a portare dei motori e tutto quanto, però poi finendo la guerra hanno tirato i remi in barca, avevano caricato tutto sulla ferrovia, sempre da questa segheria che c'erano i treni merci, avevano il pianale per essere caricato, avevano portato via questi motori e non hanno mai fatto niente, non è mai entrata in funzione, la cimbiniera ci deve essere ancora però. Direi che lavorare in Ferragna era al massimo, io penso che a quel periodo lì, lavorare in banca, mi ricordo che davano forse la quattordicesima ancora, non so se mi sbaglio, o lavorare in Ferragna io penso che era al massimo. E forse noi, io devo darmi forse un po' di mea colpa, nel momento di crisi di altre fabbriche non abbiamo mai magari fatto sentire un po' la nostra voce, che magari era forse, che poi ci siamo arrivati anche noi in quel momento lì, no? Perché se vogliamo la Montecatini ha chiuso, l'Acna ha chiuso, l'Issa Carcare ha chiuso forse, cioè tante fabbriche e quindi anche posti di lavoro, perché se vogliamo la Val Bormida era la zona più industrializzata della Liguria se vogliamo. Però noi eravamo un pochettino dei signorotti se vogliamo, vivevamo nel nostro mondo un po' chiusi e forse dovevamo rimanere un po' aperti. E cosa devo dire? Devo dire fortunato che ci è entrato, fortunato che ci ha lavorato. Poi ancora gente come me che, sì c'era chi ha vissuto vicino al prodotto che si è fatta un'esperienza penso indimenticabile a livello di prodotto, però gente come me che lavorava in ingegneria che ha diversificato il suo lavoro anche in altri stabilimenti, si è fatto anche un po' di trasferte. Ad esempio io mi ricordo che abbiamo fatto l'impianto frigorifero in centrale nuovo e avevamo vinto un premio per averlo fatto nei tempi, avendo speso meno abbiamo vinto un viaggio premio a Madrid tanto per dire, no? Io penso che nessun stabilimento forse succedono queste cose, io parlo della Val Bormida. Eravamo forse più puliti, se vogliamo, senza togliere niente per l'amor di Dio, io non voglio dire che in Cochitalia però il carbone rispetto a una lastra fotografica la differenza c'è. Io mi ricordo che non lasciavano passare il camion di carbone davanti allo stabilimento perché? Perché sia la… perché perché? Perché potevano inquinare, diciamo perché il nostro prodotto, la nostra pellicola era di una delicatezza che faceva paura, quindi non ne passavano, passavano tutti, andavano verso Bragno e poi tornavano a Bragno, ecco tanto per dirne una. E quindi anche se io poi non voglio entrare nel discorso inquinamento perché non era il mio campo, noi avevamo il nostro… avevamo il nostro impianto di depurazione acque, però io non so se ha inquinato più la Cochitalia o la Ferragna o la Montecatini, questo non lo so e non lo voglio dire, però vogliamo dire che il prodotto che facevamo era un prodotto dove si… se ci andava con i guanti. Il presidente del Tremel Club che era nel 74, era il dottor Dalossa, mi ha detto tu devi organizzarmi un torneo di calcio perché si divideva lo stabilimento in vari settori, settore chimico, settore ricerca, settore produzione, settore manutenzione e ingegneria e io gli ho organizzato questo torneo, poi c'è stato il passaggio di consigli tra Dalossa e Gervasio, Gervasio è diventato presidente del Tremel Club, è stato un grande presidente del Tremel Club Gervasio e mi ha detto Franco guarda sono rimasto senza nessuno al tennis, mi devi portare avanti il tennis e di lì non sono più scappato, praticamente sono stato responsabile del tennis dal 74 al 95, poi Gervasio ci ha lasciato la società, è andato a fare il sindaco a Savona, penso con dei buoni successi, ne parlano ancora bene adesso e io inaspettatamente mi ha chiamato allora capo del personale Corizia, mi ha detto guarda che ti devi prendere questa grana e io non so se sono in grado, perché c'erano non so quante sezioni, bocce, calcio, turismo, turismo era la più importante perché era la più delicata nell'organizzare, le altre quando erano invierate andavano tutto l'anno, la sezione turismo devi fare quelle due o tre gite ma li devi centrare perché se li sbagli poi le critiche lì, poi c'era la sezione sci, mineralogia, fotografia e praticamente dal 95 fino a quando sono andato in pensione e poi l'ho portato avanti anche un po' dopo ho fatto il presidente con dei collaboratori eccezionali e poi abbiamo tentato anche di dire ai nuovi proprietari, eravamo andati io e il dottor Corizia in direzione a dire che c'era questa realtà in fabbrica se volevo non può portarla avanti, io ero disposto anche se adesso sto cairo, essendo ferragnese e poi l'ho portato avanti fino a giugno del 2005 di rimanere, tanto il training club nessuno era stipendiato, tutto gratuito, lo facevamo un po' all'orario di lavoro ma più tanto fuori dall'orario di lavoro, tutta gente appassionata del proprio mestiere e loro hanno detto che non gli interessava niente, di chiudere pure tutto e se poi le cose si mettevano bene pensavano loro a riaprire. E come dico abbiamo passato dei bei momenti, dei bei momenti, fatto delle belle gite, avevamo degli impianti bellissimi tipo un brocciodromo coperto, tipo un tennis coperto, abbiamo cominciato un pochettino a dover chiudere un pochettino il dopolavoro perché i requisiti di sicurezza non c'erano più e questo è stato un primo passo un po' verso, ci volevano parecchi soldi per mettere il sesto dopolavoro, anche perché io all'inizio ho parlato di cinema, poi il cinema alla fine degli anni 70 è finito, nel senso che quindi il dopolavoro era una realtà che non stava più in piedi. Però abbiamo tenuto duro e penso che abbiamo fatto divertire, accettavamo tutti i ragazzi giovani, ferragni anche della vallata, che volevano venire a fare lezioni di tennis, anche nelle gite e diciamo che per me è stata, e anche penso che anche quello sia stata un po' una scuola americana. A San Pietro venivano le giostre a Ferragna e gli davano il campo sportivo, dallo stabilimento fino alla stazione c'erano giostre, ancora prima dello stabilimento c'erano le macchine parcheggiate fino alla stazione, perché San Pietro era festa nazionale, poi l'han tolta, adesso quando lavoravamo facevamo sempre festa perché era il patrono, però era festa nazionale. Io non so, una festa così è inimmaginabile, è inimmaginabile. E poi come dico, le gare a bocce e poi sto dopo lavoro, che per noi alla domenica io partivo da casa, andavo con i soldini, andavo a prendere il biglietto, andavo al cinema con le caramelle, poi passavano gli anni e cominciavano a esserci già un po' le simpatie di qualche ragazzina, magari c'era il primo, non so, è toccare magari il ginocchio, i primi passi, ecco. Mi ricordo qualche spettacolo tipo Fred Buscaglione, perché facevano 1-2 serate di carnevale, toglievano tutte le sedie del cinema, tiravano su il coso e rimaneva al palco, mettevano i tavolini e facevano questi due o tre veglioni a carnevale, questo prima del 65, per il 66. Grazie a tutti.